Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è il quinto giorno della novena di San Francesco d'Assisi ed è la festa dei Santi Arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. Questa festa ci ricorda l'esistenza degli spiriti angelici, di questi esseri che Dio ha posto a nostra custodia e protezione. San Francesco d'Assisi era molto devoto degli angeli. Tante volte San Francesco è chiamato con il nome di Serafico Padre. Serafico viene da Serafino. I Serafini sono gli spiriti celesti più elevati, spiriti che ardono d'amore al cospetto di Dio. San Francesco con il suo amore ardente imita i Serafini in questa carità ardente. Il beato Tommaso da Celano così scriveva, San Francesco venerava col più grande affetto gli angeli che sono con noi sul campo di battaglia e con noi camminano in mezzo all'ombra della morte. Dobbiamo venerare, diceva, questi compagni che ci seguono ovunque e allo stesso modo invocarli come custodi. Inoltre diceva, ripeteva spesso che si deve onorare in modo più solenne il beato Michele perché ha il compito di presentare le anime a Dio. Perciò ad onore di San Michele, tra la festa dell'assunzione e la sua, digiunava con la massima devozione per 40 giorni e diceva, ciascuno ad onore di così glorioso principe dovrebbe offrire a Dio un omaggio di lode o qualche altro dono particolare. Il più grande omaggio che San Francesco faceva in onore di San Michele Arcangelo era appunto la quaresima che inizia dopo la festa dell'assunzione e dura fino alla festa odierna che allora era del solo San Michele Arcangelo. Gli altri arcangeli venivano festeggiati in altre date e fu proprio durante la quaresima di San Michele Arcangelo del 1224 sul monte della Verna che San Francesco ebbe il dono delle stimmate. L'esempio di San Francesco ci fa capire quanto sia importante invocare la protezione degli angeli in modo particolare di San Michele Arcangelo che ci difende nella battaglia. La vita su questa terra è tutta un combattimento come ci insegna il libro dell'Apocalisse. Allora il drago, ovvero il demonio, si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Vi era stata dapprima la guerra in cielo quando Lucifero si ribellò e non ci fu più posto per lui in cielo. Allora l'arcangelo Michele sconfisse Lucifero e lo precipitò sulla terra e con lui una grande quantità di altri spiriti angelici che seguirono Lucifero in questa ribellione. Sconfitto in cielo, Lucifero continua questa guerra sulla terra contro tutti quelli che osservano i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dunque meravigliarci se facendo il bene troviamo tante difficoltà. Il combattimento è inevitabile, ma in questo combattimento dobbiamo essere ben armati. Le nostre armi sono la preghiera, la parola di Dio, la devozione alla Madonna e la devozione a San Michele Arcangelo. Lo dobbiamo invocare maggiormente sull'esempio di San Francesco d'Assisi. Nel 1216 San Francesco si recò pellegrino a piedi al famoso santuario di Monte Sant'Angelo, dove l'arcangelo Michele era apparso e si era manifestato. Il racconto narra che il poverello d'Assisi, giunto alla soglia della grotta, non si sentì degno di entrarvi. Si fermò allora sulla soglia in preghiera e in raccoglimento, baciando ripetutamente la terra e incise su una pietra il segno di croce in forma di tau. Questo segno ancora oggi è visibile, venerato come una reliquia del suo passaggio. Presso la porta della grotta fu poi eretto un altare in onore di San Francesco, a ricordo del suo pellegrinaggio. San Francesco compose diverse preghiere, tra queste vi è pure l'esortazione alla lode di Dio, la quale termina con un'accorata invocazione a San Michele Arcangelo. Benedite il Signore, o creature tutte! Voi tutti uccelli del cielo, lodate il Signore. Servi tutti del Signore, lodate il Signore. Giovani e fanciulle, lodate il Signore. Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la lode, la gloria e l'onore. Sia benedetta la Santa Trinità e l'indivisa unità. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento. E ora, cari fratelli e sorelle, chiediamo tre grazie ai santi Arcangeli. La prima la domandiamo a San Gabriele ed è quella di recitare la preghiera dell'Ave Maria con la sua purezza d'amore, con la purezza che lui ebbe nel recare a Maria l'annunzio della Divina Maternità. La seconda grazia la domandiamo a San Raffaele ed è quella di essere accompagnati e soccorsi da lui nel lungo viaggio del nostro pellegrinaggio terreno. La terza grazia la domandiamo a San Michele Arcangelo ed è quella di essere da lui protetti contro tutti gli assalti del demonio tentatore. E terminiamo ora con la preghiera della novena. O Serafino d'amore, San Francesco, per quell'ardentissima carità verso Dio di cui tanto fu inebriata l'anima tua con una scintilla di questo santo fuoco ferisci il nostro cuore affinché possiamo trovare quella pace e quella gioia che è frutto di così bella virtù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco prega per noi. Ave o Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, di San Francesco e dei Santi Arcangeli, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Grazie a tutti.